ciao buonasera ciao ciao bella come va bene grazie bene bene voglio fare un massaggio come funziona mi spiega un pochino per favore mezz'ora 30 euro, un'ora 50 euro che tipo di massaggio hai? grande, interessante, romantico, completo, testa fino a piedi completo, testa fino a piedi? quanto costa completo? mezz'ora? e dopo parlare con una ragazza va bene tranquillo si parlare con una ragazza cosa devo dire? entra nella stanza, arrivo alla ragazza per spiegare tutto come facciamo ah ok ma le ragazze sono nella stanza? ah ok sono cinesi? tu quello vuoi? non sono per tenso la maestà? no no va benissimo grazie bevi un po' acqua? si grazie ecco voi avete spesso? si certo non si vede nulla non si vede piano piano? si dicono eh non si vede ah è proprio piano non si vede no sono un po' stranito scusa è la prima volta grazie grazie ciao bella piacere Manuele grazie come ti chiami? Angela? qui non è italiano sai Angela eh? anche io adesso sono italiano io te dove sei? cinese posso poggiare qui? allora si ok ma anche lì lì mi leggo le 50 euro a me di califari c'è scritto 30 euro 30 euro sono massaggio nelle mani massaggio come massaggio? massaggio rilassante rilassante sarebbe? più servizio più pagale più servizio con la masturbazione? con la masturbazione? eh 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 e quella lì devo pagare di più come devo pagare di più? appunto ma lei facciamo con il suo nome 30 euro sono massaggio va bene? va bene ciao grazie alla prossima ciao ciao anche a te ciao buonasera sono un giornalista salve questo centro massaggi lui è venuto poco fa in questo centro come funziona? a fine massaggio c'è masturbazione per tutti i clienti? no sono massaggio massaggio mezz'ora eh però lui eh dipende mi spiace si sto facendo sono un giornalista perché metile? sto riprendendo volevo sapere no eh si ma non hai bisogno c'è bisogno per sapere perché qua come funziona c'è uno sfruttamento della prostituzione come funziona? mi spiace va bene per favore se c'è il documento certo non abbia paura io non sono della polizia sono giornalista anche non va bene fare così guardi mi spiace va bene esci fuori si esco fuori ma come funziona qua? va bene fuori ma come funziona? non va bene con me ma come funziona? funziona che viene fatta la masturbazione a tutti quanti? anche non c'è avvocato va bene io non rispondo qualcosa ma funziona con tutti quanti? per le favore funziona con tutti quanti? anche tu lascia va bene? funziona con tutti quanti? per le favore per le favore quanti siete qua dentro? per le favore perché queste cose non vanno bene sono illegali se non c'è avvocato io non rispondo qualcosa va bene? per le favore queste cose non si possono fare lo sapete? per le favore non c'è avvocato io non rispondo qualcosa per le favore mi spiace però qui fate i massaggi due massaggi va bene anche tu non bisogna fare qualche domanda per me va bene? mi spiace mi spiace è vero mi spiace nessun problema ma noi non siamo della polizia anche io lo so però così ti chiudono il locale poi perché queste cose non sono ammesse è un problema è un reato quello che fai piccolo ma è un reato non c'è avvocato anche tu non c'è qualcosa io non posso rispondere a qualcosa se vieni prova il massaggio non c'è problema va bene? eh pago di più e cosa mi fa la signorina? massaggio più tempo per favore più tempo però poi a più tempo a fine massaggio come si finisce? con la mano? questa sono dici tu va bene? per favore l'ha fatto il mio collega qui accanto che facciamo? niente ti ho fatto una domanda mi bisogno rispondi il tuo telefono va bene? tu mi raccomanda? va bene va bene ok grazie ciao ciao non va bene cosa vuoi eh? diciamo dei giornalisti non va bene quello che fate voi è quello il problema perché te non puoi usare la mano a fine massaggio non il massaggio testa fino piedi si si appunto poi ti fermate in un punto particolare poi ti fermi in un punto particolare non si può fare e non rispondi quale cosa per favore hai detto che ti dispiace ti dispiace che sia finita così? io non ho bisogno di rispondi quale cosa per favore si ma non va bene quello che fate capisci? è una cosa che non si può fare negli altri centri massaggi italiani non finiscono così i massaggi non va bene così bene voi se va bene lasciare il tuo numero domani chiedere il mio certo va bene? va bene? nessun problema segnatelo non ho segnatelo prendi un bigliettino non ho bigliettino prendi un foglio di carta ti scrivi il tuo numero te lo scrivo? si si scrivi qua ecco qua il mio numero di telefono ecco qua come ti chiami? Matteo scrivo scrivo io non ho nulla da temere certo sono un giornalista questo è il mio numero di tessera ok va bene domani chiamale il mio avvocato 152 0 12 chiami all'avvocato poi ce lo spiega lui ok verci per favore non va bene cancellare? si si per favore anche tu non c'è non fare la basta stiamo andando via per favore